I furti negli appartamenti ultimamente stanno diventando un fenomeno di nuovo preoccupante. In questo caso però il pronto intervento degli agenti della volante ha permesso di fermare quattro donne slave, tutte in stato di gravidanza che avevano tentato di entrare in un appartamento di Arezzo collocato in un condominio. Le donne sono state intercettate dalle pattuglie della polizia quando erano ancora all'interno di un condominio. Avevano tentato di entrare in uno degli appartamenti dello stabile attraverso la porta d'ingresso la cui serratura non era stata chiusa a chiave. Le quattro donne tramite delle schede plastificate trovate nelle loro borse e sequestrate dagli agenti avevano infatti aperto la porta protetta però all'interno dal chiavistello di sicurezza e quindi la porta non si è aperta in modo totale. La segnalazione da parte del proprietario dell'appartamento è stata tempestiva. Ha subito chiesto l'intervento della polizia attraverso il 113. Sul posto dopo pochi minuti sono arrivati gli uomini della volante. Gli agenti hanno circoscritto la zona, hanno individuato e fermato le donne ancora prima che uscissero dal condominio. Le hanno rintracciate in un'altra scala mentre cercavano di allontanarsi. Le quattro persone in questione sono quattro donne slave, due nate nel 1981, una nel 1984 e una giovanissima addirittura del 1993. Tutte residenti nel campo nomadi di Sesto Fiorentino, segno che il pendolarismo per commettere furti continua dunque imperterrito. La cosa però particolare è che le quattro ladre erano tutte incinta infatti per questo sono state liberate e denunciate per tentativo di furto in l'abitazione in concorso tra loro.